c'è una piccola piccola una volta c'era il tigrosso quando era piccolo però penso che sia passato qualche anno c'erano tre mesi è libera però non c'è il fatto che può provare l'acqua ovo c'è una piccola piccola e' di da un'estilato è inizibile E questo? Sì Abbiamo fatto una corsa Questa sarà la corsa indipendente Questa è fatta la corsa Questa qui l'ho presa Sì Questa acqua qui l'ho presa fronte Ah La rietta vedo la BP Anche se io non la vedo Poi si vedrà a casa Si si vedrà a casa Poi si vedrà a casa Poi si vedrà a casa Sì Sì Vedrà a casa Non c'è un'epoca qua O Dio Mi dovrebbe essere vicino a ruba Vabbè, è vicino a trappato Faccio un pulite allineo, non è freddo Alla via tutte le temperature Questi e questi sono tra tutti gli animali e quelli che di più somigliano un gatto Questo è il mio frattito E quelli che di più somigliano comunque un gatto Tutti e quattro E ti ricordi quando l'hanno messo a tavola appena fatto questa area nuova con l'hanno piccoli? Sì Un gheppardo? Per dormire o per stare in gabbia? Ma come si chiama? Sì 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 È grande ma non è tanto grande E' nervosa E' nervoso, facendo così, mi è nervosissima questa, ossa, aspetta, ossa, che questa è un bel inguerino, volo io alla parte.